volontaria dell'associazione Le Sfigatte, accompagnata dalla vicepresidente dell'associazione Miriam Simonetti. Buongiorno a tutti. Ciao, grazie per la vostra partecipazione. Beh, il titolo è quantomeno curioso, salviamo i rospi in amore, facciamo di tutto per diventare rospisti. Spiegami un po' questo vostro corso che si tiene proprio oggi pomeriggio per diventare rospisti, cioè? Allora, succede ogni anno in questo periodo, quindi tra marzo e aprile, che i rospi si svegliano dal loro letargo, quindi sono sottoterra e si muovono verso gli specchi d'acqua più vicini per accoppiarsi. Questo dura un mese, un mese all'anno succede questa magia. Un mese di passione. Un mese di passione, quindi vanno avanti e indietro, insomma si accoppiano con più femmine possibili e cercano di andare negli specchi d'acqua più vicini a deporre le uova. Dopodiché tornano alle loro tane, che possono essere anche molto distanti da dove inizialmente sono partiti, e ritornano a fare la loro vita. Solo il problema è che questo mese, tutto questo via e va, insomma, di rospi in amore, purtroppo è interrotto da strade, da viabilità, eccetera, quindi avviene puntualmente una strage. Cioè i problemi della vita quotidiana per i rospi. Esatto, esatto. Cioè rischiano veramente di brutto sulla strada. Esatto, vengono, perché purtroppo i rospi sono degli animali, sono degli anfibi, non sono saltatori, come si può immaginare, non sono come le rane. Ah, le rane saltano, i rospi? I rospi camminano. Però un po' lentamente. Lentamente, esatto. E sono un po' simili ai ricci anche, perché quando prevedono un pericolo, si sentono minacciati, loro si fermano. Ecco perché quando passiamo con la macchina abbiamo questi rospi immobili sull'asfalto. Quindi sono totalmente indifesi, sono molto lenti e si muovono, insomma, in varie direzioni sulle carreggiate, perché fanno un'andata e un ritorno. Perché cosa fanno? Partono e vanno a cercare il maschio, quindi attraversano già una prima volta. Ah, sono le femmine che vanno a cercare il maschio? No, viceversa, c'è abbastanza anarchia. Esatto. E poi tornano indietro, quindi attraversano due volte in questi mesi. Insomma, la strage è veramente... Ecco, noi abbiamo un po' di fotografie dei teli dell'anno scorso. Esatto. Poi vediamo un po' di fotografie, così ci spiega anche che cosa state facendo. E soprattutto racconti e ricordi che ci segue da casa, che oggi pomeriggio fa ancora in tempo a venire a fare il corso per Rospista. Ecco, un po' di foto dei teli dell'anno scorso. Dell'anno scorso, noi ci troviamo ogni anno, quest'anno ci troveremo domenica 10 marzo alle 2 in questa provincia. Ecco, cercando i volontari. Cerchiamo i volontari, sì, assolutamente. In questa provinciale dove monteremo praticamente delle barriere fatte in nylon, sono degli striscioni di nylon messi lungo la carreggiata al bordo della strada. dietro i quali vengono interrati dei secchi ogni metro. Quindi cosa succede? Che i Rospi quando arrivano a dei prati, prima di arrivare sulla carreggiata, vengono fermati da queste barriere in nylon. Cercando di scavalcarle, cadono nei secchi. A quel punto i volontari, quindi li convogliano i secchi. In modo da non andare sulla strada. Esatto, li fermiamo così per un momento. Poi i volontari passano e svuotano i secchi. Cosa fanno? Prendono i Rospi da una parte della carreggiata e li fanno da taxi. Li mettono dall'altra parte della carreggiata e viceversa. Ecco, vedete, questo è proprio... Siete in tanti all'opera. Sì, sì, sì. L'hanno scorcheranno. Questo è il montaggio dei teli. Oggi pomeriggio invece spieghiamo la biologia del Rospi, come fare un sito di salvataggio, come funziona a proprio livello pratico, come si maneggia un rospo, dove si mette... Questa che strada è, ad esempio? Questa è la provinciale di... È la stessa che farete anche quest'anno? Esatto. Dove siamo? In che zona siamo? Siamo vicino, dopo il Colle Don Bosco, proprio dopo il santuario. Si chiama Capriglio, il paese. E la provinciale che... Questi sono un maschio e una femmina che si accoppiano. Il maschio paradossalmente è quello sopra più piccolo. Perché la... È un po' strano. È un po' strano. Non mi era mai capitato un incontro ravvicinato di questo tipo. Come vedi, le zampe del maschio sono attaccate alla scella della femmina, perché l'accoppiamento è a cellare, di tipo a cellare. Si incastra al maschio, è particolare, si incastra al maschio alla scella della femmina e a volte anche più maschi insieme rischiano anche di soffocare la femmina. Infatti bisogna staccarli. Sì. Non si annoiano, diciamo. No, non si annoia. Però tutto questo dura un mese, poi in realtà nella nostra vita quotidiana i rospi li vediamo molto raramente, il resto dell'anno. No, in effetti. Magari d'estate perché si sente il loro gracidare. Ma sono rane o rospi? Sono le raganelle, le rane, sono altri anfibi che fanno... Sei veramente specializzata, eh? Dopo anni me la sono studiata abbastanza, l'argomento. Sono quelle... Insomma, il verso del rospo è un pochino più lieve, difficile da inquadrare. I rospi sono più piccoli delle rane? Sì, no, no, i rospi sono decisamente più grandi. Eh, già, il rospo è una bella roba grossa. Poi tra l'altro questa specie che noi andiamo a salvare, che è la specie più minacciata in via d'estinzione, si chiama buffo-buffo. È proprio il nome. Ma c'è dalla faccia buffa, in effetti. È buffo, sì. Alla faccia buffa. Alla faccia buffa. Grazie.